No, perché i tracimenti italiani sono piccoli e quindi costosi da sfruttare, per questo negli ultimi anni il loro sfruttamento è costantemente diminuito. Inoltre il prezzo del gas così estratto verrebbe comunque definito dal TTF, cioè dal mercato europeo che è unico. Quindi, per convincere gli investitori, l'estrazione verrebbe sussidiata dallo Stato italiano, cioè dai cittadini e questo aumento di produzione di gas richiederebbe tempo, molto più tempo rispetto alla stessa produzione con le fonti rinnovabili. Inoltre, nell'immediato futuro il consumo di gas in Italia e in Europa diminuirà proprio perché il passaggio all'elettricità consente una corposa serie di vantaggi sia ambientali che economici. Inoltre il gas appunto deve rimanere sottoterra per limitare l'aumento delle catastrofi climatiche generate per il 75% proprio dalle emissioni della filiera fossile.